Come esordio ci sono stati dei migliori, nel primo tempo ce la siamo giocata direi alla pari, poi nel secondo sono calato un po' io, poi abbiamo fatto un bello strappo andando sull'8 a 6, poi dopo siamo peccati primis io, poi di seguito un po' la squadra di lucidità su alcuni palloni fondamentali che poi hanno, diciamo, dato la svolta alla partita e dall'8 a 6 poi non ci siamo più mossi. Abbiamo iniziato più o meno, loro hanno iniziato subito fortissimi, noi siamo andati 4 a 2, eravamo un po' lenti. Poi abbiamo iniziato a spingere, abbiamo iniziato a spingere, siamo arrivati 4 pari, poi fino a 8 pari, sempre uno io, uno lui, uno io, uno lui, quindi abbiamo giocato tutti e due, non al massimo delle nostre potenze perché potevamo fare sia io che lui, possiamo giocare molto di più. Però alla fine, forse l'ultimo passetto verso la fine, ho scalato un gradino in più e quindi siamo riusciti a vincere questa partita. Siamo contentissimi, abbiamo iniziato bene questo campionato e siamo contenti.